C'erano argomenti importanti da discutere questa mattina in Consiglio Comunale a Napoli, dall'aumento della Tari, la tanto odiata tassa sui rifiuti, alla COSAP, il canone per la concessione di spazi e solo pubblico. Ma i lavori dell'Aula non sono cominciati nel migliore dei modi con il consigliere comunale d'opposizione, Salvatore Guangi, che si è scagliato contro l'assenteismo della Giunta. Niente sindaco, solo due assessori presenti al momento in cui Guangi ha preso la parola durante il question time. Noi rimandiamo al sindaco questa nostra arrabbiatura, questa nostra istanza di poca attenzione da parte dell'Aggiunta nei confronti del Consiglio Tutto. E' bastato poi un giro di telefonate, annunciato al microfono della Presidente del Consiglio Comunale, Enzamato, che dopo poco ha fatto capolino il sindaco Manfredi, seguito a ruota ma con calma dagli assessori. E i lavori hanno preso così il loro corso con la proposta del consigliere di Fratelli d'Italia, Longobardi, per dare la cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti e la squadra azzurra. E' passata all'unanimità con il voto favorevole anche della Giunta, quindi penso che su questo tema siamo tutti d'accordo. Per l'argomento più atteso dai contribuenti napoletani, l'aggravio della tariffa sui rifiuti è intervenuto il sindaco, tranquillizzando i cittadini. Le famiglie non penseranno perché noi daremo un bonus che compenserà completamente gli aumenti. Quindi le famiglie non avranno nessun aumento. Questo è un aggiornamento obbligatorio che deve essere fatto nel 2020, ma la precedente amministrazione non aveva aggiornato le tariffe. Quindi questo è un obbligo di legge che ci obbliga a fare questo aggiornamento. Però le famiglie non avranno nessun incremento perché noi con risorse di bilancio garantiremo una compensazione dell'incremento dei costi.